Noi siamo come organizzazioni sindacali davvero esterefatti della soddisfazione dell'assessore rispetto ad un gruppo di persone, circa 22, che nel corso di questi tre anni avevano maturato professionalità, competenze, avevano anche sopperito a delle carenze che purtroppo nei centri per l'impiego ci sono, ci sono ancora oggi anche perché i processi anche qui concorsuali, quindi le nuove ammissioni di fatto non sono terminate, quindi ci sembra davvero fuori luogo questa soddisfazione rispetto al fatto che sono stati mandati via professionalità, persone che adesso sono disoccupate o comunque in cerca di un ulteriore lavoro e che invece avrebbero potuto garantire certo innovazione ma anche quell'elemento in più da utilizzare rispetto a chi appunto sta cercando lavoro. Noi riteniamo peraltro che anche il nuovo processo Goal che le regioni stanno mettendo in campo per appunto l'occupabilità sia un processo importante che ha bisogno anche qui appunto di competenze. E' un processo che ci sembra almeno dai primi momenti che venga invece in questo momento appaltato in gran parte alle agenzie per lavoro. E' davvero, diciamo questo sì, è davvero stupefacente.